Da Andrea a Montorio Alvomano, provincia di Teramo, 330 chilometri ricchi di speranze, curiosità e consapevolezza di poter essere protagonisti. La carovana della Fidelis, guidata dall'allenatore Ciro Danucci e dal direttore sportivo Gianni Califano, le ha percorsi in un lunedì di fine luglio con l'intento di far tesoro del carico di entusiasmo catalizzato sugli spalti del Degli Olivi venerdì scorso in occasione del primo allenamento stagionale a porte aperte e di trasformarlo ben presto in risultati sul terreno di gioco. All'orizzonte c'è un mese di agosto che per le protagoniste della prossima Serie D sarà inevitabilmente quello del rodaggio prima di fare sul serio. Domenica 1 settembre sarà tempo di Coppa Italia, domenica 8 invece toccherà il campionato e nel girone H i Biancazzurri al momento sono con Casarano e Virtus Francavilla sul podio delle formazioni maggiormente accreditate per arrivare fino in fondo. L'estate 2024 ha sin qui messo in mostra la volontà di recidere decisamente il filo con il passato almeno sul piano tecnico. Ferrara in difesa e Cancelli a centrocampo sono le sole conferme a fronte di una dozzina abbondante di arrivi e in attesa di nuove ufficialità. Tra i over ecco Bonin, Sirri, De Rosa e Giampa in difesa, Lamonica, Risolo e Gledstone a centrocampo, Coquen, Fantacci e Diurni sulla tre quarti. Senza dimenticare Under con ottime esperienze nella categoria come Babai arrivato dal Manfredonia, nomi che in buona parte tornerebbero utili anche in C scelti per puntare in alto, ai quali si è aggiunto anche Augustin Marsico, attaccante argentino, 27enne. La Fidelis lo ha seguito con attenzione nel girone I di Serie D, dimensione in cui ha segnato 12 reti in 21 partite con il Locri e quando il Trapani, che lo ha tesserato in estate, ha manifestato la volontà di cederlo in prestito. I biancazzurri sono stati i più lesti a farsi trovare pronti. Per lui esperienze anche nella massima serie delle isole Faroer, nella Serie B portoghese e in Argentina. Brevidinio è alto 1,76 m e bravo ad attaccare la profondità. Non sarà il solo tassello in un reparto che attende da un giorno all'altro il tesseramento di Mateus da Silva Castro, gigante a segno 17 volte l'anno scorso con il Gravina, atteso alla chiusura della telenovela con i gialloblu murgiani per il trasferimento. La scelta di lavorare per due settimane a Montorio Alvomano, sostenendo le spese di un ritiro precampionato fuori regione, lascia intendere come la Fidelis 2024-25 non voglia lasciar nulla al caso. Nel weekend sarà tempo della prima uscita stagionale, test utile per capire lo stato dell'arte in rosa. E di qui al 13 agosto, data che archivierà le sessioni di allenamento in Abruzzo, non sono affatto da escludere altri colpi a sorpresa. Il calciomercato XL del girone H di Serie D è una dinamica dalla quale ad Andria non sono di certo esenti.